Musica Musica Vicenza 2017, ovviamente siamo a febbraio e quindi IT, siamo qui con Maurizio Di Trani che cura marketing e è molto lunga, la spiega lui. No, no, io mi occupo del marketing e delle vendite di tutte le manifestazioni organizzate da Italian Exhibition Group qui nella sede di Vicenza. Italian Exhibition Group va spiegato, è il nuovo player qua. Sì esatto, è la nuova avventura imprenditoriale che segna un momento abbastanza storico nella vita delle fiere italiane perché nasce dalla fusione di Fiera di Vicenza e di Rimini Fiera, formando così il primo gruppo italiano per numero di prodotti di proprietà. Una cosa importantissima, qui stiamo parlando di un topic abbastanza, di un argomento abbastanza caldo in questo momento, anche a livello di polemiche che girano intorno. Parliamo appunto di IT e caccia e armi. Bellissimo il fatto che Rimini, entrando in questa avventura, Vicenza oramai era storica, ha continuato questa tradizione e credo rilanciandola addirittura. Ma certo, IT ormai è diventata sicuramente la piattaforma di riferimento in Italia, non solo in Italia, un processo di internazionalizzazione che si è già sviluppato e si svilupperà ancora di più in futuro. Sono moltissimi i buyers e gli appassionati da molti paesi d'Europa che vengono a IT e quindi è uno dei prodotti di punta del portafoglio di Italian Exhibition Group, raccogliendo una community che dà un segno di vitalità molto importante. Quanto alle polemiche, diciamo che evidentemente ci sono molte persone che hanno relativamente poco da fare e quindi sfruttano... Sono poche persone, perché ne abbiamo contate dieci fuori che urlavano. Sì, sì, ma io credo che nel momento in cui si organizzano manifestazioni in totale sicurezza, in conformità completa con quello che prevede la legge, con tutto un percorso anche culturale intorno agli sport venatori, agli sport del tiro, con la presenza di atleti olimpici, di esperti del settore, in totale sicurezza, io credo che poi il buon senso vinca alla lunga e le polemiche rimangono pretestuose. Una sensazione così tattile, visiva, sensoriale è che ci sia stato più gente degli altri anni. Avete un riscontro numerico? Sì, sì, questa impressione visiva che tutti noi abbiamo avuto ovviamente si traduce in numeri. Noi abbiamo la possibilità di controllare giornata su giornata l'accessi in fiera e confermo il fatto che nei primi due giorni, entrambe le due giornate, sono state in aumento in termini di visitatori rispetto alle stesse due giornate dell'edizione precedente. Questo ovviamente ci fa molto felici. Una piena controtendenza con tante cose che ahimè stanno succedendo in questo periodo, in Italia ma anche in Europa in genere, stiamo raccontando una storia di crescita, non di zero qualcosa, una storia di crescita importante. Abbiamo visto nuovi padiglioni, tantissimi nuovi player del settore qui e, come dicevi giustamente Maurizio, anche internazionali. Quindi abbiamo uno storico alle spalle ottimo, un presente fantastico. Il futuro come sarà? Il futuro ci auguriamo ovviamente ancora più brillante e in crescita. Noi chiudiamo questa manifestazione con dei segni più in doppia cifra su tutti i principali indicatori. Sono aumentati gli espositori un più 20%, sono aumentati i metri quadri dedicati al salone con il più 17%. Abbiamo un padiglione completamente nuovo che è quello della Canarigata, il padiglione numero 6, che ha riscosso un gigantesco successo da parte degli appassionati degli espositori. Il futuro sarà brillante, dipende ovviamente molto da noi. Noi come filosofia prendiamo i successi come nuove sfide, quindi sono piattaforme dalle quali ripartire. Quindi ci impegneremo ancora di più per renderla ancora più grande. Io ti posso fare soltanto una promessa che noi come Wolfshooter e Solforant, principale ormai piattaforma europea dedicata a questo mondo, vi staremo sempre vicini. E noi li accoglieremo con grande piacere.